ok poi abbiamo questo che sono la lista degli amici gli amici che sono online potete mandargli dei messaggi qui c'è le richieste di amicizia e questi sono i giocatori silenziati ok qui potete invitare un giocatore mandargli una richiesta di amicizia e niente questo è semplicemente potete vedere il profilo dei vostri amici bellissimo mormorio poi qui potete mandargli un messaggio che vede solo lui se è online poi potete vedere le caratteristiche eccetera